Forse non tutti sanno che i pinoli, già molto cari sul mercato, negli ultimi tempi sono ancora più preziosi e vanno letteralmente a ruba. Un virus che ha colpito proprio le piante di pino, arrivando a toccare anche 100 euro al chilogrammo per il frutto i pinoli. E questa la motivazione che ha portato due fratelli, Palmarino Sebastiano e Antonino Calà, di 51 e 54 anni, da Piazza Armerina a Ragusa, con il fine di rubare quante più pigne possibili da cui ricavare il prezioso frutto. Scoperti dagli uomini dell'ufficio volanti della questura di Ragusa, mentre staccavano con forza centinaia di pigne dal verde pubblico. Sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di armi improprie. Gli agenti delle volanti, diretti dal commissario capo Filiberto Fracchiolla, hanno sorpreso i due uomini che con forza cercavano di staccare pigne dagli alberi, rischiando di danneggiare seriamente le piantagioni. Immediatamente gli agenti li hanno bloccati e hanno trovato nella loro auto cinque sacchi stracolmi di pigne, per un peso totale di oltre 200 kg, da cui si sarebbero potuti ricavare pinoli che sul mercato avrebbero fruttato diverse centinaia di euro. Inoltre sempre all'interno dell'autovettura, prontamente utilizzabile, è stato rinvenuto un affilato coltello, dalla lama di 12 cm ed un grosso bastone di legno.